presidente per chi si tessera entro il 6 gennaio ci sarà un'estrazione a sorpresa di che cosa si tratta fino a domani 6 gennaio vi potete tesserare a lente carnevalesca con tutti i vantaggi annessi e connessi tra cui entrare al carnevale solo con un euro ma in più potete vincere una postazione getto per la prima giornata di carnevale poi ovviamente ci si potrà tesserare durante tutto l'anno in vari punti noi comunque domani saremo in piazza insieme alla befana e possiamo possiamo tesserare chi vorrà dopodiché ci saranno vari punti dalla prossima settimana all'ente carnevalesca mattina e pomeriggio vi potete tesserare dalla prossima settimana mattina e pomeriggio in carnevalesca e anche in altri punti della città sul sito troverete tutte le informazioni e comunque anche sabato in un banchetto della carnevalesca che troverete lungo il corso quindi mi raccomando non abbandonateci non abbandonate il vostro carnevale inoltre ci sono ancora posti liberi per il getto dei dolciumi sui carri l'esperienza del getto dei dolciumi dai carri del carnevale è un'esperienza bellissima se volete potete farla e per fare questo basta che telefonate in carnevalesca prenotate una postazione e vi saranno date tante casse di cioccolate e caramelle per poter fare questa esperienza meravigliosa in una delle domeniche di carnevale